La mafia si è fatta imprese, i nuovi affiliati studiano a Oxford e alla Bocconi, si intendono di imprese e fondi di investimento, occultano i loro capitali illeciti anche in Europa, diluendo ulteriormente le possibilità di individuarli. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto fotografa così l'espansione delle mafie testimoniata da inchieste che, come spiega l'onorevole Nicola Pelicani della Commissione Parlamentare Antimafia, sempre più spesso partono da sud ma arrivano al nord e molto spesso in Veneto. In aziende affiliate le Camere di Commercio E proprio l'ente camerale di Venezia Rovigo, in collaborazione con l'Associazione Contro le Mafie Libera, ha voluto trattare all'M9 di mestre le varie facce di quest'altra economia che minaccia imprese e imprenditori, come il regino Tiberio Bentivoglio, da 30 anni tondi sotto l'incubo della minaccia mafiosa alla sua impresa di articoli sanitari. Dal 2011, quando fu colpito da sei pallotto alle alle spalle e si salvò per miracolo, non si muove senza scorta che lo Stato gli ha messo a disposizione, mentre parallelamente per un'altra sua emanazione aggravava il suo dissesto finanziario messo in moto dalle pressioni mafiose. È un paradosso chiedere di pagare le tasse su una merce, su un prodotto distrutto dall'Andrangheta. Lo sto facendo da tantissimi anni, ma lo Stato per tutta risposta ha ipotecato tutto il mio bene immobile. Perché la velocità da questo punto di vista c'è invece, arriva presto l'ipoteca alla richiesta di pagamenti. Ecco, lì lo Stato è celere, è veloce, ce l'abbiamo dietro la porta nel momento in cui non siamo più in grado di ottemperare all'erario. Solitudine, spiega Bentivoglio, è non sentire al suo fianco lo Stato al momento in cui ha avuto coraggio di denunciare i suoi guzzini. Pagato a caro prezzo, sette attentati subiti, sei processi di cui l'ultimo inizia breve, la sua attività distrutta almeno quattro volte anche da altre cosche che volevano mandare un ulteriore messaggio al ribelle imprenditore. Era una bella azienda la nostra, avevamo sette dipendenti in tutto, anche i rappresentanti, i corrieri, uscivamo a vendere all'ingrosso in giro per la provincia, oggi non abbiamo più dipendenti. Siamo come nel 1979 quando abbiamo iniziato, marito e moglie, con i figli umari cresciuti che ci danno una mano. Non abbiamo dipendenti, non ce lo possiamo permettere. Nella sola Calabria ci sono 4.800 immobili confiscati all'Andrangheta, ma per gli imprenditori è difficile ottenere l'utilizzo. Io sono in affitto perché sono dieci anni ormai che grido in tutte le lingue che la legge 109 della concessione dei beni confiscati va rivista. Chiedo che non solo venga dato un bene confiscato alle associazioni no profit o alle cooperative per fine sociale, ma anche alle vittime di mafia riconosciute, ai testimoni di giustizia, alle vittime dell'usura, analizzando caso per caso sicuramente e soprattutto a chi ne fa richiesta. Sarebbe bello poter occupare tutti i beni confiscati alle mafie da un imprenditore normale, legale, pulito. Grazie Grazie Grazie